A presto comincia adesso il match con il biancavilla in possesso di palle si proiettano in aria verso l'aria con il numero 10 giordano che si accentra prova esplodere il tiro attento sulla traiettoria faraone senza troppa lucidità però in questo momento recupera palla regolarmente bozzanga che può innescare tra le linee cali il cui tiro si stampa sulla traversa dal nulla la prima azione il primo pericolo creato dal biancavilla il calcio di punizione dei campani la traiettoria insidiosa che va a spiovere bassissima tra l'altro respinta in un primo momento alla difesa del biancavilla adesso contro traversone che vede che vede il real agraversa in vantaggio al ventiduesimo e il numero 9 la monica sul contro traversone ospiti che possono giostrare adesso ancora sulla sinistra provando uscire da quell'imbuto e il pallone filtra per giordano che sbuca in mezzo alla difesa del biancavilla e poi con un tocco sotto beffa la difesa e l'intervento di faraone del 2 a 0 al quarantesimo per il biancavilla per il real agraversa con la monica e poi con giordano che firmano l'attuale 2 a 0 in favore degli ospiti arriva adesso con un minuto oltre il 45esimo il fischio dell'arbitro del signor sassano che spedisce le due squadre negli spogliatoi gli ospiti a riprendere le ostilità ostilità che ripartono adesso con stelitano che perde però l'attimo e mette nei guai panza puntato dalla monica che entra in aria sulla pressione di tosolini la monica non trova lo spazio e il tempo per la battuta da posizione invitantissima guadagna per un calcio d'angolo il real agraversa adesso il rilancio lunghissimo all'indirizzo di giordano che adesso prova a creare qualche difficoltà sulla sinistra e se ne va a due giocatori compreso di laura giordano che guadagna il campo guadagna il fondo aveva crossato in mezzo verso la monica la cui stoccata viene intercettata alla difesa biancavillese qualche blocco a centro all'aria parte il traversone la parabola sul secondo palo c'è gioffo va a terra però qualcuno al centro dell'aria e liukkonen che neanche protesta troppo in ogni caso quello che dove essere un appoggio probabilmente verso il centro dell'area piccola di gioffo in realtà si perde nel parcheggio del raiti difficoltà ad addomesticare la sfera sfera che rimane comunque di pertinenza della formazione etnea che sulla destra vede asero che guadagna il fondo il cross e la rete che riapre l'incontro con questo spunto ma viene attenzione 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 nessuna rete del biancavilla annullato dalla guardalinea con il capannello di giocatori della biancavilla che viene allontanato in questo momento dai pressi della guardalinea proprio dal signor sassano aveva trovato il pareggio al ventiquattresimo il biancavilla i campani che tentano questo lancio di alleggerimento con il numero 14 stellitano e viene beffato da cavallo stellitano aveva in realtà interpretato come fuori gioco la rimessa di faraone però intercettata da cavallo sulla pressione successiva c'è la monica che si libera prima di laura pasticcio difensivo della difesa biancavillese e la monica può tranquillamente agevolmente chiudere verosimilmente la sfida trovandosi nei piedi questa palla solo da appoggiare in rete esce asero che lascia la fascia da capitano a tosolini primo dei due cambi se lentissima ci sarà un recupero assolutamente lungo fuori anche cali per il numero 15 piccione forse con un po più di con un po meno responsabilità ecco nei confronti di queste gare e con un minuto anzi no con una precisione svizzera diciamo il signor sassano fischia la fine di una partita già indirizzata dal risultato con il 3 a 0 del real agro a versa che adesso si riunisce in mezzo al campo ricordiamo la doppietta di la monica e la rete di giordano due reti arrivate nel primo tempo e poi la terza nel secondo nella seconda frazione con il gol non convalidato al biancavilla sul momentaneo risultato di 2 a 0 che ha ovviamente spento le ambizioni degli etnei finisce così alla rete con una sconfitta che pesa per la squadra di ferraro che non riesce a trovare continuità di prestazioni e di risultati sicuramente un passo indietro rispetto a quanto visto nelle ultime settimane dall'orazio reiti di biancavilla è tutto da parte di dario giusto grazie a tutti grazie a tutti